Alfredo Livieri, iPerformer, aggiornamento su Transizione Digitale. Notizia di questi giorni, insomma, 20 giorni fa, un mesetto fa, tanto non vi diciamo che giorno è oggi, quindi che cambia, è uscito un nuovo bando da parte del Dipartimento per la Transizione Digitale per ulteriori 310 milioni di euro, se ricordo bene, a favore delle amministrazioni pubbliche locali, per la Transizione Digitale, in particolare per l'integrazione con, per esempio, Speed, con l'applicazione Io, con Pago.pia e, tra l'allero, tra l'allà, la piattaforma per le notifiche digitali. Quindi, complessivamente, col PNRR siamo arrivati a 2 miliardi e 310 milioni dedicati alla trasformazione digitale e quindi alla digitalizzazione del nostro paese. partirà la nave della digitalizzazione, partirà dove arriverà, questo non si sa, sarà come l'arca di Noè, il Mac, il Mouse, io e te. Iva Zanicchi, Dolcet.